Ehi ragazzi, ho saputo che tra due settimane il Museo di Storia Naturale di Springfield verrà chiuso per sempre per mancanza di interesse. Beh, vi consiglio vivamente di visitarlo finché siete in tempo. Domani la nostra piccola Lisa deve andare al museo e penso che tu dovresti accompagnarla, mio caro. Il museo? Domani? Oh Marge, tesoro, mi piacerebbe, ma sai, avevo in programma di... Dormire, mangiare, forse guardare la tv, trascorrere un'oretta con il ragazzo. Di trascorrere un po' di tempo con il ragazzo, lui ha bisogno di... Ho scambiato due parole con Lisa e sono preoccupata per il... Dillo, ridillo, 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 ridillo. Mi cadi per terra e do la colpa a IA. Se tu fossi più intelligente ti faresti venire un'idea, ma siccome non lo sei, tanto vale. Sei della polizia, se non devi mentire, lo sai.